Mettere in vendita la casa spesso comporta il rischio di incappare in qualche brutta sorpresa. Le proposte di acquisto, ad esempio, potrebbero essere stilate in moduli che non prevedono tutti gli elementi essenziali di un contratto e una volta accettata una proposta diventa davvero vincolante per tutte e due le parti, quindi attenzione perché come è il modulo è molto importante. Un'altra cosa importante da valutare è se si devono inserire nella proposta delle clausole sospensive o condizionanti. Anche queste clausole devono essere stese nel giusto modo per evitare brutte sorprese e per ritrovarsi magari in una via senza uscita. È proprio per tutti questi motivi che tanti clienti si rivolgono a me per avere una consulenza a 360 gradi ed essere tutelati a livello sia giuridico che pratico e per arrivare davvero al momento dell'atto senza problemi e ovviamente con il sorriso sulle labbra. Al prossimo video!